scusi no 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 ma parte muovendo l'acqua ma il retino cosa c'è dentro il retino e sono scopo poche ma io me ne intendo tanto ma questi ops sono qui l'utilizzo scusa ma per me sono contrappesi sono contrappesi perché quando lancia c'è qualcosa e lo regge e va via si parlava dei contrappesi e tagli attaccare solo degli accessori che pensa che tai la fortuna e in questo posto io ho delle rifresse di secco un barbo che l'ha preso di fuori faccio vedere aspetta 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 forza miseria zoffa fiera nooo aspetta aspetta eh questo si su due le ma faccia vedere nell'espressione totale magicamente tuo ma sei impazzito ma sei impazzito oh non mi ne importa della pesatura no invece la si pesa io ce l'ho la pesina va bene non ti preoccupare fermati 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 no zitti grande casino ti è andato via per non farlo vedere l'ha slamato guarda il lavoro di pesci si sta muovendo no 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 Prende i quanti. Prende i quanti. Tanto ascolta la ripresa te la fora tanto le uguale a dopo cambia nulla sei in un bosco di a meno ma allora mi devo mettere la mascherina oppure lei sta a distanza Ma lo sai tu sei più bellino con la mascherina no no lasciatela lasciatela assolutamente lasciatela Ma lo sai tu sei? Prende i quanti. 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 e siamo a 6 te lo ributto nella quina Topils vai ragazzi ma e allora oggi oggi la attenzione è perché Topilio è un uomo duro in questo posto ascolta quanto mi paghi per avverti portato in un ambiente di genere e se era per te rimaneva sconosciuto per l'eternità ti darò una spinta quando manderà la macchina Catino per vedere se ti va più veloce siamo andati a vela oggi ma non tirava vento e non tirava vento la macchina di Catino resta un po' un problema vedo hai incollato bachi e i sassini dove sono perché lo sai no che se non metti i sassi nei bachi incollati questi rimangono ancora più a galla ascolta dammi i due sassini c'è da zio due sassini no dai fa un po' di proposito sassini tieni tieni no 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 madonna tu mi hai piaciuto tutti e questo fiondino fiondino devi raccattare e quello la è già in posizione è già in posizione eh e ora vediamo un po' Catino che ti ci racconti Catino con questi suggeri dura un po' io te lo dico questi hanno la vita limitata sono come i replicanti guarda che lenzino ma allora via insomma allora a parte questa felpa o si che è una felpa o si insomma un po' che potrebbe anche non far vedere lei si faccia gli affari sua non lo pagano neanche a di se Dio vuole comunque deciditi o Scemano o Colmici si fa un po' tutte e due e la lenza di Cassini cioè io voglio dire che c'è un mescolio di roba che nemmeno eh tuo figlio lo vuole capire e lei è indesiderato oppure no lei è come quel figlio che uno non si aspetta senti vuol vedere capito? vuol vedere se mi si incolla a tua parte ecco va bene va avanti vieni sciolto nell'acqua sta attento si scivolano all'ostio eh vieni sciolto o ti sciolto nel gatto io 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 e basta buttare che ha fatto? hai preso un altro? ah basta buttare la figlia vieni vieni roba bella roba che classe ma no no incredibile strappato lo zabbazà strappato signori strappeto sono delle merde godono perché io ho strappato stengo la telecamera che fa un pesce quasi a giro te cosa dici di questi due ma io vorrei vederli proprio così sani fanno la pesca al traffico il tuo figlio comunque pesca leggero no perché tanto va pescando leggero e quel catino lì che casino lì lo vedo un attimino vai tu c'è topi topi se tu c'è anche cactus è male male se tu sei preso dall'amarezza tu ti puoi addolcire un affare di genere bene vai